Due derby Irpini in programma, partite da dentro fuori per città di Avellino e Clanese, Lioni e Lions, Mons e Militum Montemiletto. Allo Stadio Roca, l'Audax di Ciccio Messina, dopo la bella vittoria sulla capolista marianese, va a caccia con una vittoria del passo qualificazione. Gli avellinesi del Pitone, invece cinque punti nelle ultime tre gare, vanno all'assalto della terza piazza, un match che si preannuncia senza esclusione di colpi. Come sarà, senza esclusione di colpi, l'incontro dello Stadio Iorlano tra la polisportiva Lioni di Sicuranza e Lions di Contaldo, unica squadra a non aver ancora vinto una partita nel girone. Il derby partenopeo marianese-palmese chiude la giornata. Uno dei protagonisti del momento in casa città di Avellino e Clanese è il difensore classe 98, ex Ascoli, Campobasso e Gavorrano, Michele Capozzi, che avvise il Cervinara e non teme il duello con il capocannoniere del raggruppamento, Alessio Befi. Sicuramente il loro attaccante è un attaccante importante per la categoria, un attaccante che come dice lei è il capocannoniere del girone, però credo che il Cervinara sia una squadra piena di buoni giocatori e che non è composto solo da Befi. Credo che se noi, pensando a noi e facendo la partita come abbiamo fatto le ultime giornate, sia con il Lioni che con il Montemiletto e con la Palmese, potremmo sia agginarli e sia anche e soprattutto inserire la loro squadra. Credo che per quanto abbiamo fatto nelle ultime partite dobbiamo dimostrare che la strada che stiamo intraprendendo anche con il nuovo mister sia la strada giusta e iniziare a prenderci il bottino pieno per raggiungere il nostro obiettivo.